Yogi è un dolce e timido meticcio di 6 anni, di carattere docile e affettuoso, desideroso di compagnia e attenzioni. È curioso, socievole e ama molto le passeggiate. Ha terminato da poco un percorso educativo ed ora è pronto per una nuova adozione. Una volta entrati in confidenza, con un po' di pazienza, sarà impossibile non farsi conquistare dalla dolcezza di Topogigio. Ama particolarmente le lunghe e tranquille passeggiate ed esplora con gioia e curiosità un mondo che gli è stato nascosto per 10 anni, in attesa che qualcuno voglia condividere con lui questa nuova avventura. Ha fatto grandi progressi il nostro Anakin, uno splendido giovanotto di 3 anni, arrivato dal Sud Italia con suo fratello. Con Anakin ci vuole pazienza perché ha un carattere diffidente e un po' sospettoso, ma una volta diventati amici saprà ricompensarvi con tanta affettuosa e giocosa amicizia. Questi gatti provengono tutti da una colonia in cui è venuta a mancare la signora che se ne occupava. Vengono dati in adozione dall'associazione Love che, in accordo con il comune di Belluno, se ne sta prendendo cura. Sono 20 gatti, tra maschi e femmine, di diverse età e colori, alcuni a pelo lungo. Tutti sono sterilizzati. Aspettano solo una famiglia che li accolga. Per informazioni contattare Love Adozioni al numero 329 04 39 861.